qualche errore umano sicuro di comunicazione con la squadra insomma il treno che era un treno non previsto perché non è un treno né merci né passeggeri ma un treno trasportava convogli da un punto all'altro magari a quell'ora non doveva passare non lo so ecco queste sono cose e questa notte che ne sono giunto qui sul posto erano le prime così perplessità di chi era chi c'era qui di rfi però penso che rfi passano le loro indagini sappiano dire quello che veramente è successo io sono arrivato appunto chiamato da questo cittadino sarà stata una meno un quarto e insomma la scena purtroppo sono andato più in aria la scena che l'ho vista io sono un medico e quindi cose non belle le ho viste nella mia carriera però insomma così no e queste cinque persone insomma che il 500 metri sono state praticamente tra volte da questo convoglio la scena era veramente brutta